Pace bene cari fratelli e sorelle, bentrovati! La seconda domenica di quaresima ci offre l'episodio della trasfigurazione di Gesù. Gesù è in cammino verso Gerusalemme e porta in disparte i suoi tre discepoli più intimi e per un attimo manifesta la sua divinità anticipando la gloria della risurrezione. Perché questo episodio proprio ora? Perché ci ricorda il fine della quaresima, giungere rinnovati a Pasqua. Come disse il cardinale De Donatis, la quaresima è come una farmacia dove il medico divino vuole sanare le nostre ferite per riconsegnarci allo splendore originario del battesimo. Ecco perché in primis abbiamo bisogno della grazia dello Spirito Santo con la quale cooperiamo esercitandoci spiritualmente perché la vita di Cristo trovi spazio in noi, perché possa emergere quella straordinaria bellezza che Dio ha seminato in ciascuno di noi, la bellezza della sua immagine a volte sepolta sotto una coltre di vizi, di abitudini sbagliate, di negligenze. Egli insieme a noi vuol fare un po' come uno scultore che per far emergere la bellezza della sua opera d'arte toglie ciò che è di troppo. Allora tre parole che prendiamo dall'episodio della trasfigurazione che possono aiutarci nel nostro cammino di trasformazione, di santificazione sono pregare, ascoltare e camminare. Prima di tutto il pregare. La trasfigurazione stessa avviene in un clima di preghiera. Secondo alcuni biblisti il nucleo storico di questo episodio è il fatto che Gesù, sapendo che ormai era prossima la sua passione, sente il bisogno di ritirarsi in intimità con il Padre. E i discepoli in questo clima di preghiera sperimentano la trasfigurazione del Signore. Questo ci ricorda che la nostra vita cambia nella misura in cui si prega. Mie cari, la preghiera cambia il cuore. Dalla qualità della preghiera dipende la qualità della nostra vita. Non a caso i santi dicevano che chi prega si salva. Quante volte nella preghiera arrivano intuizioni belle, si sperimenta la consolazione, ci si rasserena. A volte sembra non essere cambiato nulla, ma non è così. Ogni vera preghiera è un tuffo in Dio, un passo fatto in avanti per il nostro cambiamento. E quando incontri una persona che prega davvero e che ama davvero lo capisci. Si coglie in essa una profondità in altri assente, e anche fisicamente sembra diversa, emette una lucentezza, una serenità che sgorgano da un'interiorità abitata. Lo scrittore Olivier Clément era stupito dal vedere la trasformazione ad esempio di Charles de Foucault come era prima e dopo il suo itinerario di conversione. Possiamo dunque dire che pregare realmente trasforma e diventiamo ciò che contempliamo, ciò che ascoltiamo, ciò che amiamo. Proprio come dice San Paolo, e noi tutti, avviso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione dello Spirito. Passiamo al secondo punto, ascoltare. I discepoli contemplano questa scena meravigliosa. Pietro prende parola, vorrebbe fare tre tende, ma ecco la nube e la voce del Padre che dice, questi è il figlio mio l'amato, in lui mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Ecco l'itinerario della Quaresima è in fondo di tutta la nostra vita, ascoltare Gesù. Capiamo bene cosa significa ascoltare. Immaginate una mamma che dice al figlioletto, ti raccomando ascoltami, o viceversa, te l'avevo detto, non mi hai ascoltato. Non si intende soltanto sentire quel che dice, ma accoglierlo nel cuore per viverlo. Si tratta dunque di lasciarci guidare dalla sua parola, lasciandoci insegnare da lui l'arte di vivere e di amare. E tutto parte da un fatto, l'umiltà di riconoscere a Dio il suo primato nella nostra vita e dire, Signore, tu mi ami, tu vedi più lontano di me, sai qual è il vero bene per me. Allora desidero ascoltarti. Papa Francesco diceva, chissà, se leggessimo il Vangelo con la stessa frequenza e desiderio con il quale leggiamo i messaggi che arrivano sul cellulare, come sarebbe la nostra vita. In un passo dell'Antico Testamento il Signore disse al suo popolo, se mi aveste ascoltato, il vostro benessere sarebbe come un fiume in piena. Miei cari, quanto staremmo meglio e come stiamo profondamente bene, quando lo ascoltiamo, quando siamo nella sua volontà. Allora ripartire da qui, ascoltare Gesù, lasciargli il volante della nostra vita. Terzo punto, camminare. Pietro con la sua esclamazione, Signore facciamo tre tende, una per te, una per Mosè, una per Elia. Voleva in un certo senso fermare lì la scena, evitando la fatica del cammino. Ma ciò non è possibile. Quella grazia è data dal Signore per aiutarli ad affrontare lo scandalo della passione e perché a suo tempo possano rileggerla con altri occhi. Siamo sinceri, anche noi vorremmo che la vita si fermasse nei momenti belli. Anche a noi non piace scendere. Anche noi preferiremmo evitare quella cruda realtà nella quale siamo chiamati a vivere. Ma non si può fare Pasqua se non si scende dal tabor. Cioè non possiamo diventare persone adulte se non attraversiamo le fasi dolorose della nostra vocazione, le difficoltà del quotidiano, la sfida di amare una persona che ti è difficile amare. Non possiamo diventare persone unificate o, come dicono gli psicologi, risolte se non affrontiamo i nostri limiti e abbiamo il coraggio di guardare in faccia ciò che ci abita. Non possiamo crescere nella fede se la riduciamo a una mera ricerca di esperienze forti, di eventi belli, senza coinvolgere la nostra libertà e responsabilità. Non possiamo essere veri discepoli di Cristo se non siamo disposti a seguirlo, non a modo nostro, ma a modo suo, obbedendogli anche quando costa fatica, anche quando dal tabor della trasfigurazione ci è chiesto risalire sul gezzemani della sfigurazione fino al golgota della crocifissione. È vero, è sempre difficile scendere dal tabor. È sempre difficile accettare e amare ciò che non vorremmo ci fosse. Eppure non è fuggendo dalla realtà che possiamo trovare la felicità, ma vivendola fino in fondo. Un po' come diceva Santa Teresina, Dio pone spesso la pace in fondo al calice. Per questo il Signore dissemina di grazie e di luci la nostra vita, anche per sostenerci nei momenti bui. La domanda è se ce ne accorgiamo. Quante persone mi hanno raccontato di aver vissuto esperienze belle, forti, di aver ricevuto segni meravigliosi poco prima di eventi estremamente dolorosi. Ecco, Dio che con la sua tenerezza si fa sentire vicino, per incoraggiarci nel nostro cammino. Mie cari, forse la nostra vita è ferita e ci sembra tutta buia. Forse non abbiamo ricevuto amore in momenti decisivi o abbiamo ricevuto cose dolorose, difficilmente superabili. Eppure anche nei luoghi più reconditi Dio ha posto frammenti di luce, facendo filtrare il suo amore in un modo o in un altro. Nel buio delle nostre notti, come una fiaccola, talvolta tenue, brilla la luce della sua presenza, con la quale ci incoraggia, ci sostiene, ricordandoci che altra è la meta. Dunque, se quella strada che ti si apre davanti ti sembra arida, se quella malattia che si dipana davanti a te ti inchioda, se stai attraversando la fase spoglia e arida della tua vocazione, il Signore con la sua trasfigurazione ci ripete non temere. Io sono con te e solo seguendolo con questa fiducia, forti del suo amore, che è possibile superare ciò che sembra la fine, ricordandoci che non è un punto ma una virgola, un passaggio verso la nostra meta. Ed è solo così che dal buio delle nostre notti possiamo passare alla luce della sua Pasqua. Che il Signore ci doni la grazia di viverlo e sperimentarlo per poter ripetere insieme a Pietro, Signore è bello per noi essere qui, è bello per me essere con te. Che il buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti!